Ehi, io lavoro a Reggio. Ciao, io lavoro a Reggio. Mi chiamo Davide Botto, io lavoro a Reggio. Io sono Maria Di Mauro e sono un artista del coro del Teatro Reggio dal 1998. Sono Vittorio Borrelli e sono uno dei direttori di scena. Sono entrato in questo teatro nel 1974 all'età di 15 anni. Sono primo contrabbasso di questa orchestra, sono entrato qua precisamente nel settembre del 1984. Sono Lorenzo Battagion, artista del coro baritono, facente parte di questa grande famiglia dal 2012. Stiamo provando in questo momento Bohème, un'opera che ha visto la luce in questa sala a Torino alla fine dell'Ottocento, nel 1896, sotto la direzione di Arturo Toscanini. Sono fiera, questa volta, di iniziare con Bohème, dopo questo lunghissimo periodo di grandi sacrifici, con questa scenografia poi in particolar modo, quella originale. La mia prima Bohème è stata come figurante nel 1979. Poi nel 1996 ho partecipato alla famosa produzione per la regia di Giuseppe Petroni Griffi, quella detta del centenario. Ogni volta che suono Bohème provo delle sensazioni molto forti. Che cosa consiste essere artista del coro? Consiste nel far parte di una famiglia che tutti i giorni lavora e crea arte per voi, pubblico nostro adorato. Ciao, io sono il regio? No, ho sbagliato, io lavoro al regio, rifo!